Musica Ciao a tutti ragazzi bentornati sul canale di Quinty Channel E oggi sono qui con questo nuovo video, siamo di nuovo su Watch Dogs 2 E in questo video non andremo a fare missioni di Watch Dogs Quindi non ci saranno spoiler riguardo le missioni Ma vi andrò a mostrare una prigione segreta che ho scoperto su Watch Dogs 2 Prima di andare verso la prigione segreta vi volevo far vedere ragazzi le foche Guardate che figata Sono qui sulla barca e ci sono le foche Quando vi avvicinate poi scendono, guardate che figata ragazzi Tutte queste belle foche che non voglio assolutamente uccidere Guardate inoltre i riflessi della luna e delle varie luci sul mare Guardate che figata di posto ragazzi Veramente una figata assurda Dice il grande ponte di San Francisco E adesso dirigiamoci verso la prigione segreta Allora Dove dovete trovare questa prigione Allora accedendo alla mappa ragazzi Andate qui al molo dove troverete tante barche da poter rubare Una volta prese le barche dobbiamo dirigerci verso questa isola Chiamata isola di Alcatraz Allora adesso ci andiamo subito Andiamo insieme ragazzi Guardate che figata il mare Comunque siccome io sperimento tutto ragazzi Se voi prendete una barca e andate verso la fine della mappa Non vi fa continuare con la vostra barca Quindi vi fa tornare indietro Quindi è impossibile allontanarsi tanto dalla mappa Quando è arrivata il limite non potete più continuare A differenza invece di GTA Comunque se scoprirò altri posti Che ritengo interessanti da mostrarvi Vi farò dei video come questo qua ragazzi E ogni volta che scopro cose nuove Ovviamente ve li porterò sul canale Inoltre Per chi volesse vedere I vari episodi riguardo alle missioni principali Trova tutto nella playlist Che appunto ho creato su Watch Dogs Perfetto Noi intanto siamo arrivati Parcheggiamo qua Non fa niente Vai buttiamoci E siamo arrivati ad Alcatraz Allora ragazzi Qualche volta vi farò sentire Dei dialoghi della gente Per farvi vedere il realismo ragazzi Che c'è In questa Diciamo mappa Cioè in questo gioco Watch Dogs Perché il realismo dei vari personaggi Cioè dei vari pedoni che ci sono È veramente qualcosa di stupendo E poi ho scoperto anche una cosa Se per esempio Prendi No Cazzo No scusate tranquilli Non vi lascio stare a voi Comunque dicevo Se voi Prendete per esempio La macchina fotografica Cioè il vostro telefono E fate una foto Ad un pedone ragazzi Automaticamente il pedone Può mettersi addirittura In posa Per Farsi la foto Guardate Allora Prendo la fotocamera La giro No cazzo fa Fotocamera posteriore Guardate Allora Questi qua non mi stanno cagando Di striscio Ok guardate quello Guardateli ragazzi Si mettono in posa Veramente una figata Assurda Inoltre Non mi ricordo dove si andava No Qui sono le armi Allora Due secondi Ecco qua Ci sono Alcune azioni Che possiamo fare Tipo saluta Dall'altro lato della strada Oppure ragazzi Esulta Guardate Che figata Balla Possiamo ballare E la gente Mi cagherà Ragazzi Vedete Che figata Possiamo anche Insultare Possiamo fare Tante cose Perfetto Possiamo anche insultare Però non insultiamo Sono qua Si crea un casino E questa qua È una zona turistica Ragazzi E sarebbe Una vecchia prigione Abbandonata Cioè che Ormai Non è più utilizzata Come prigione E questa zona Come ho detto È turistica Quindi ci sono Molti turisti Alcuni parlano italiano Altre altre lingue E ognuno E ognuno sta per i cazzi Suoi A fare Appunto i cazzi Suoi Allora ci sono diverse entrate Noi possiamo entrare di qua Ecco qua Come potete vedere Ognuno parla di un argomento Proprio Eccetera Veramente una figata E questa qua È la prigione Che potrete Appunto Esplorare Come State vedendo Nel video Guardate le varie celle Eccetera E là ci sono tantissime persone Che Si fanno i loro cazzi Eccetera Scattano foto Ho visto gente Ragazzi Che si fa Le foto Con Il bastoncino Dei selfie Gente che Gioca Tra di loro Si insulta Si arrabbia Veramente una figata assurda Il realismo Che c'è In questi piccoli particolari È veramente qualcosa di stupendo Poi il fatto che Il doppiaggio è in italiano Quindi Si capisce I vari dialoghi Si capiscono Eccetera Questo qua È il tetto Dove potrete Ammirare San Francisco Guardate Che figata Lì c'è pure Un faro Che possiamo Fare Che cosa Ok Possiamo Acherarlo Tra virgolette Guardate Poi Cazzo Qua Sono sceso Di nuovo Nella prigione E niente Questa è la prigione Di Alcatraz Che ho scoperto Cazzeggiando un po' Per San Francisco Eccetera E ogni volta Che scoprirò Qualcosa di interessante Ve lo porterò Sul canale Adesso voglio uscire Da questa prigione E Vedere un po' La gente Che cosa dice Eccetera Allora Se non mi sbaglio C'è un'uscita Principale Dove c'è appunto Un uomo Che fa da guida Turistica Che spiega un po' Questa prigione Vedete ragazzi Il bastoncino Dei selfie Figata Figata Comunque Ecco qua Forse è questa L'uscita principale Sì Da questa parte Ecco qua E no Non c'è ragazzi Di giorno era E stava qui Una guida E tanta gente Che l'ascoltava E stava parlando Appunto Della sicurezza Di questa vecchia prigione Dei vari detenuti Che stavano prima C'è veramente Una figata Assurda Ragazzi Questa è una zona Veramente molto bella E soprattutto Particolare Poi ovviamente Io adesso sto di notte Però se andate di giorno C'è più gente Ci sono Ragazzi Cioè è diverso Il giorno dalla notte Ovviamente Ed è uno spettacolo Di posto Potrete esplorarlo Tutto Però ci sono alcune zone Che cazzo ha quella Ci sono alcune zone Ragazzi Dove non potrete entrare Attenzione La news Non me ne fai Non me ne fai Un cazzo Tipo questa zona qua Ragazzi È vietata Entrarci Non so Magari se la sblocchi Si può Sbloccare qualche cosa Eccetera Comunque Veramente Una figata Assurda E questa è l'isola Di Alcatraz Guardate la gente Che si fa i cazzi Propri Eccetera Veramente Particolare Guardate la Questi qua Non parlano In italiano E niente Questa qua È la prigione Qui ci sono Delle zone Vietate Quindi non possiamo Entrarci C'è la sicurezza Eccetera Eccetera E guardate un po' Dove siamo Veramente Una figata Assurda Comunque Se volete visitare Questo posto Io vi consiglio Di visitarlo Di giorno Di giorno Guardate il parkour Che fa il nostro personaggio Dicevo Vi consiglio Di visitarlo Di giorno Perché c'è più Attività E ragazzi Vi renderete conto Veramente del realismo Della gente Eccetera C'è veramente Una figata Assurda Adesso noi Andiamo sulla barca E ce ne andiamo Da quest'isola Guardate là Che figata La barca Ehm E questa Ragazzi E questa Ragazzi E' l'isola Di cui Vi parlavo Nello scorso episodio Sarebbe Questa qua Comunque Se ci saranno Altre zone Che esplorerò Per fatti miei Ragazzi E troverò Interessanti Vi li porterò Ovviamente Sul canale E niente Io spero allora Che questo video Vi sia piaciuto Ci vediamo Con i prossimi video Di Watch Dogs In cui continueremo Appunto la campagna Se vi siete persi I video scorsi Li troverete Nella playlist Dedicata a Watch Dogs Sul mio canale Ditemi Che cosa ne pensate Di questi video Lasciate un mi piace Fatemi vedere Il vostro supporto E noi ci vediamo Alla prossima E ciao a tutti